Benvenuti a un nuovo tutorial di Aquascaping Lab. Oggi parliamo di alghe, un problema che affligge molti dei nostri acquari. Le alghe sono piante tallofile. Come i licheni, come i muschi e come i batteri, non presentano né il fusto, né le radici, né le foglie. Oltretutto hanno una riproduzione sia assessuata che assessuata. Questo prevede quindi, data la presenza in acquario, una forte riproduzione e in tempi molto brevi. Perché quindi si formano le alghe in acquario? I motivi sono molteplici. Uno dei più frequenti è un'illuminazione sbagliata, perché o troppo scarsa oppure eccessiva. Un altro frequente motivo di infestazione da alghe è sicuramente la presenza, la sovrabbondanza di pesci. Ovviamente troppi pesci per un acquario troppo piccolo, presuppone anche troppo scivo, e quindi una presenza altissima di detriti, di scarti, di materiale biologico che va a creare molti batteri e quindi nitriti, nitrati e fosfati in eccesso. Altra causa importante di crescita e prolificazione delle alghe è sicuramente un filtro poco efficiente oppure non ben avviato a livello batterico, nei cannolicchi eccetera. Un motivo importantissimo è la fertilizzazione. Vi rimando per questo a uno dei nostri tutorial. Una fertilizzazione spesso non giusta, perché magari sono state inseriti fertilizzanti troppo ricchi e quindi non vengono assorbiti interamente dalle piante ma gli elementi vanno a nutrire, alimentare le alghe. Parliamo quindi della prevenzione della recita delle alghe. Vi ricordo che è importantissimo prevenirle perché alcune di queste alghe, di cui poi vedremo le specie nello specifico, crescono e si riproducono in maniera esagerata in acque, in acquari, che hanno valori dell'acqua perfetti, buoni. Quindi ovviamente da un giorno in alto potremo vedere il nostro acquario infestato da ogni tipo di alga. Quindi sicuramente occorre alimentare queste alghe il meno possibile. Alimentare il meno possibile significa non lasciare sul fondo del nostro acquario detriti e sporcizia che poi creano appunto la base per la crescita delle alghe. Ricordiamoci che se si desidera tenere sotto controllo la crescita delle alghe è importante avere delle piante, quindi piantare piante acquatiche in modo tale che il cibo delle alghe diventi il cibo per le piante e quindi avremo sicuramente un effetto estetico anche molto bello perché acquari piantumati sono molto più belli da vedere. Ricordiamoci della sovrappopolazione dei pesci che non può essere esagerata perché crea ovviamente sporcizia e del cibo, il cibo dei pesci che deve essere in quantità giusta. Per mantenere quindi i livelli di purezza dell'acqua ottimali vi ricordo di cambiare settimanalmente un 10-15% sul totale del vostro litraggio per tenere sotto controllo appunto anche la crescita delle alghe. Fattore importante di prevenzione è l'illuminazione. Vi rimandiamo giusto appunto a questo tutorial. L'illuminazione è spesso creata da due lampade, una di tonalità rosa fitostimolante e l'altra a luce solare bianca. Ovviamente i tempi, la temporizzazione della luce va dalle 8 alle 10 ore al giorno. Se invece nel vostro acquario è già presente un'infestazione di alghe, i modi per debellarle possono essere due, anche usati ovviamente in contemporanea. Un metodo meccanico e un metodo chimico. Il metodo meccanico prevede l'uso di raschietti, spesso con lame di rasoio che vanno a pulire molto bene soprattutto i vetri e anche con delle spugnette leggermente abrasive, anch'esse adatte per il vetro o per gli allestimenti con molta attenzione e molta cautela ovviamente. Un metodo diciamo biologico può essere quello di inserire pesci alghivori nell'acquario o anche chiocciole alghivore. Altro metodo da usare anche in concomitanza è un'alghicida che si trova in commercio dal vostro acquarista di fiducia che in dosaggio mi raccomando controllato può aiutarvi a risolvere il problema. Vi ricordiamo che l'uso comunque di alghicidi è molto tossico per le piante acquatiche quindi molta attenzione al dosaggio di questi prodotti. Andiamo a vedere adesso i più frequenti tipi di alga grazie a delle foto potrete riconoscerle e vi aiuteremo così a debellarle. Le alghe verdi puntiforme sono alghe che si formano in vasche con acqua di buona qualità non sono dannose né per i pesci né per le piante. Solitamente formano dei piccoli puntini di colore verde o verde scuro sia su piante che su vetri. Sono molto tenaci e difficilmente i classici mangiatori di alghe riescono a debellarle. Spesso a seconda dei valori chimici dell'acqua possono scomparire o riapparire senza motivo. Le alghe verdi filamentose sono simili a quelli delle piante e la loro crescita indica solitamente un buono stato generale della vasca e dei valori chimici. Sono alghe del genere spirogira e non provocano danni se non di concorrenza verso le piante. Solitamente sono stimolate dalla forte radiazione luminosa. Le alghe verdi a pelliccia sono alghe che formano fitte foreste di esili filamenti di colore verde su tutte le piante in particolare su quelle esposte maggiormente alla luce. Sono alghe che crescono rapidamente infestando ogni sorta di piante d'arredamento crescendo a macchia d'olio ed espandendosi intorno alla colonia. I valori chimici dell'acqua non sono determinanti per la loro crescita. Solitamente i valori di nitrati e di fosfati molto alti sono elementi scatenanti per la crescita di queste alghe. Le alghe nere puntiformi compaiono solitamente sulle piante con foglie coriacee come Anubias a seguito di grossi innalzamenti di composti azotati e fosforici. Solitamente sono il segno di una trascuratezza della cura dell'acquario e della qualità dell'acqua. Filtri sporchi, mancanza di regolari cambi d'acqua e sovrappopolazione sono le cause principali di infestazione. Sopraggiungono come singoli puntini neri o neroverdastri per poi formare ampie macchie scure sulle foglie fino a sopprimere le piante troppo colpite. Le alghe nere a pennello sono il terrore di ogni acquarofilo. Solitamente compaiono come piccoli sciuffi di colore nero per poi formare una sorta di barba lungo il margine fogliare di piante coriacee. Sono alghe che possono presentarsi in due forme, una più bassa non più lunga di 5 mm, un'altra più lunga anche 2 cm. Solitamente, al contrario di quanto si dice in giro, è un'alga che non ama le acque sporche o cariche di composti organici. Al contrario, un eccesso di nitrati e fosfati rallenta la loro crescita. Un aumento graduale della concentrazione dell'anidride carbonica disciolta con l'ausilio di un diffusore e l'introduzione di veloci antagonisti come piante del genere igrofila permette dei buoni risultati. Le alghe verdi a ciuffo sono alghe di colore verde intenso o verde chiaro appartenenti al genere fitofora e formano ciuffi, grandi anche qualche centimetro, su foglie verdi ed arredi. I singoli ciuffi sono poco aderenti al substrato e si strappano con facilità senza lasciare traccia. I linea di massima preferiscono come substrato rocce e legni fortemente illuminati. Le piante vengono danneggiate di rado, per questo si preferisce pensarle come un elemento decorativo inusuale per i legni. Ci auguriamo di essere stati esaurienti sull'argomento alghe e di avervi aiutato a prevenirle o a debellarle. Grazie per essere stati con noi su Aquascaping Lab, lasciate un vostro commento qui sotto e cliccate mi piace. Vi invito a iscrivervi sul nostro canale Aquascaping Lab Channel e a presto con le nostre novità. Grazie!